Grazie Mario, benvenuti nella seconda parte di A Tutto Volley. Siamo qui con una giocatrice della Volley Angels Lab, lei è la palleggiatrice, si chiama Dalia Antonelli. Ciao Dalia, benvenuta. Ciao a tutti i telespettatori di A Tutto Volley e un caloroso saluto a tutti i nostri tifosi. Allora Dalia, cominciamo con una domanda semplice e semplice. Chi è Dalia Fuori dal Campo? Dalia Fuori dal Campo è una ragazza solare e molto socievole. Mi piace molto viaggiare e scoprire sempre nuove destinazioni. Ho fatto della pallavolo comunque la mia vita, tanto che oltre a giocare ho studiato anche per prendere dei cartellini ed allenare i piccoli. E quindi nel mio tempo libero vado in palestra e cresco questi ragazzi al meglio che posso. Bello. Come mai hai cominciato proprio questo sport? Perché proprio la pallavolo? Allora, inizialmente giocavo a basket. Quando ero piccola ho giocato per tre anni a basket. Poi nella mia città non c'era una società femminile di basket e quindi ho dovuto rinunciare e ho iniziato a giocare a pallavolo. Ho iniziato quando avevo sei anni nel Valle Cecina e sono stata lì per tanti anni. Praticamente dopo tanti anni nel Valle Cecina hai deciso di spostarti nelle Marche. Come mai questa scelta? Perché proprio le Marche? Sì, allora, le Marche mi sono sempre piaciute. È una regione molto simile alla Toscana. Mi piace il clima, c'è il mare che per me è fondamentale e si vive molto bene. Quest'anno giochi nella Volley Angels Lab. Come ti trovi in questa società, con le tue compagne, con lo staff? Bene, è una realtà che mi piace. Siamo molto affiatati e ci sosteniamo anche nei momenti più difficili. Tanto che siamo riusciti a vincere delle belle partite, delle partite importanti e quindi puntiamo a veramente dei buoni risultati. Praticamente tu fai il ruolo del palleggiatore. Il ruolo del palleggiatore sappiamo che è il ruolo più complicato nel mondo della pallavolo. Come ti trovi in questo ruolo e come lo vivi? Azzarderei a dire che è il ruolo più importante della pallavolo, se posso permettermi. È un ruolo importante perché nelle mie mani ci passano tutti i palloni e ho la gestione di tutta la squadra. Quindi devo sempre gestire prima in testa e poi attraverso il gioco tutto quello che voglio fare. Devo avere sempre le idee chiare e essere precisa e puntuale in ogni scelta. Certo, certo. Dipende tanto da te nel gioco. Allora, prima della chiusura, Dalia, avrei il piacere di chiederti quali sono i tuoi obiettivi per quest'annata intanto. Allora, gli obiettivi di squadra sono sicuramente fare il meglio possibile. Abbiamo ancora tutto un girone di ritorno da giocare e quindi tanti punti da portarci a casa. Speriamo anche di arrivare ai playoff e di fare il meglio possibile. Per quanto riguarda me, invece, voglio crescere ancora molto perché comunque sono giovane. E quindi voglio crescere e dimostrarmi per quello che sono. Certo, sicuramente crescerai lavorando sodo. E quindi per il tuo futuro cosa ti auguri? Per il mio futuro mi auguro di migliorare sempre di più, anno dopo anno, e di girare il più possibile per vedere la pallavolo nelle varie realtà. Benissimo, ti auguro veramente il meglio e grazie di essere stata qui con noi oggi. Grazie mille a voi e vi aspettiamo in palestra. Ringraziamo Dali Antonelli, paleggiatrice della Volley Angels Lab. Termina qui la seconda parte di A Tutto Volley. Grazie per essere stati con noi. Ora un piccolo break e poi torneremo con voi.